Siamo qui con la vincitrice del concorso Una ragazza per il cinema 2014, serata di Molinella in provincia di Bologna. Complimenti! Come sei approdata al concorso? Attraverso i fotografi ho fatto qualche concorso. Quali caratteristiche ritieni di possedere? La tua carta vincente? Credo gli occhi. Cosa ti ha spinta a partecipare? Qual è la tua aspirazione? La mia aspirazione è quella di diventare più che altro fotomodelle, ecco, mi piacerebbe molto, continuare con gli studi. Quali saranno le tue prossime tappe? Oddio, le mie prossime tappe, spero continuerò con loro, andare avanti. E guardando appunto al futuro, guardando in avanti, come ti vedi, dove ti vedi, per quale lavoro ti senti portata? Allora, per quale lavoro penso come geometra o ingegnere, ma lì ci devo ancora pensare un attimo. Spero di andare bene. Molto bene. E un consiglio per tutte le ragazze che intraprendono il tuo stesso cammino e che hanno la tua aspirazione? Darci tutto dentro, proprio la grinta e il sorriso in tutto. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.